In compagnia di Stefano D'Ambroso, deputato di Scelta Civica. Buonasera a voi, sono felice di essere insieme ad amici liberali formisti che condividono insieme a noi di Scelta Civica l'esigenza forte di questo Paese di passare a cambiamenti sostanziali e in questo caso anche nell'informazione, un'informazione che deve mantenere anche un suo orientamento pubblico il più possibile, ma lasciando spazi che fino ad oggi sono stati soltanto coperti da una rotizzazione politica partitica non più accettabile, non più tollerabile perché i risultati sono quelli che si sono visti in questi ultimi anni, cose molto di qualità ma moltissime cose anche che potevano rimanere davvero nel cassetto. Onorevole, senza diciamo nulla che sia troppo impegnativo, un'idea di orientamento di una modifica, una riforma RAE all'interno di Scelta Civica, verso che direzione va? Diciamo una privatizzazione, una vendita in blocco secondo invece singole reti? Noi siamo sicuramente vicini all'idea di un canale unico che rimanga sicuramente pubblico con il canone che vada, sia pure in minima parte, ancora a carico dei cittadini ma che sostenga un'unica rete e per il resto invece destinare all'interesse dei privati e quindi alla libera concorrenza gli altri canali ancora oggi troppo pubblici, per cui credo che l'unico canale pubblico, l'unica offerta pubblica su un unico canale sia l'obiettivo che può essere raggiunto. Grazie. A voi, grazie.